Oggi fatemi iniziare parlando di quelli che vengono definiti problemi da primo mondo, cioè problemi inesistenti. Il mio problema è che la sera non so cosa guardare alla televisione, non parlo della televisione generalista, quella da mo' che l'ho mollata. Parlo dei tantissimi canali ai quali siamo abbonati più o meno, facciamo degli abbonamenti a volte che durano dei mesi, a volte delle settimane, a volte faccio un abbonamento semplicemente perché voglio vedere una serie particolare alla televisione, però nonostante la grande varietà, la grande offerta di canali a mia disposizione, non trovo mai niente da guardare, so che questo non è un problema che riguarda solo me, se è problema vogliamo chiamarlo, ma che molte persone si trovano nella mia stessa situazione, dopo cena, tv, guardiamo Netflix, guardiamo Disney, guardiamo Prime e poi però sono veramente pochissime le cose interessanti da vedere e quasi sempre le ho già viste. Perché non riesco a decidermi? Ma veramente non lo so. La sera non mi piace vedere cose pesanti, non mi piace vedere in generale cose violente. Elimino a priori tutte le serie che hanno a che vedere con cose brutte fatte fra te e bambini perché neanche quelle riesco a vederle. Ecco, la mia serie ideale da guardare è qualcosa che dura, diciamo, dai 25 ai 40 minuti, che sia allegra, ma non stupida, che sia qualcosa che mi fa anche riflettere, perché tra i 20 ai 40 minuti, perché se mi piace posso guardarne più di uno di seguito. E deve essere una cosa anche però che mi stimola in qualche modo, che mi fa vedere posti che non conosco, mi piacciono molto le serie che sono ambientate in altri paesi. Ieri in notte ho ricominciato a guardarne una ambientata nell'Arabia Saudita, però anzi era un film. Ho mollato subito perché c'era una scena di matrimonio e c'erano tutti gli uomini da una parte, le donne non si vedevano, avevano tutto il velo. L'ho mollata veramente, non ce l'ho fatta a continuare a guardarlo. E sì, per cui sto trascorrendo troppo tempo seduta sul divano incapace di trovare qualcosa da guardare, anziché prendere un bel libro, andarmene a letto e mettermi a leggere. Tra l'altro sto leggendo anche un libro molto interessante, ve ne parlerò nei prossimi giorni. Oddio, spero di non aver esagerato con la voce, sento che la sto perdendo lentamente. Mancano, diciamo, una quindicina di secondi alla fine dei tre minuti grezzi. Sì, è colpa mia, dovrei darmi una mossa, smettere di fare il coniglio davanti ai fari, acceccato che non si muove, spegnere questa benedetta televisione, mandare tutti al diavolo e mettermi a leggere un bel libro o ascoltarmi un bel podcast. E lo consiglio anche a voi, va bene?